Amici e amiche del Genono Antipico, ben ritrovati, ben ritrovati. Questo è un video che arriva un po' in ritardo, ma le motivazioni cronologiche e non, credo che siano abbastanza evidenti per tutti. Non è un caso, il titolo di questo video, non è un caso che in copertina ci siano anche i colori della Sampdoria. Non è ovviamente per immeggiare loro, ma semplicemente perché i fatti che hanno portato a questa riflessione sono avvenuti prima e dopo il derby. Quindi non potevo fare altrimenti. Questo derby non ha avuto vincitori. Voi mi direte sei scemo, stai dicendo una boiata. No, non la sto dicendo perché innanzitutto in campo si ha vinto la Sampdoria, va bene, abbiamo già parlato delle partite in campo. Quindi ovviamente non mi sto riferendo a questo. Mi sto riferendo a quello che appunto è successo fuori. Mi sto riferendo al fatto che per colpa di qualche centinaio di persone, non voglio neanche dare definizioni, da una parte o dall'altra, ci abbiamo rimesso tutti. Con partite a porte chiuse, Genoa-Juve per noi, Sampdoria-Juve-Stabia sarà per loro, e trasferte vietate. Già certa, o quasi certa, sembrerebbe quella di Atalanta-Genoa, e credo anche Lazio e Parma, e dall'altra parte, se è già stata certa quella di Modena, probabilmente lo saranno anche le prossime. Con Cittadelle, non ricordo l'altra, quali sia. Questo però cosa... Cioè, questo sembra dire... Ok, hai detto novietà, sì, ma ho detto novietà che dentro ha molto di più. Dentro ha tutto un insieme di categorie, di persone, che ci devono rimettere per colpa di qualcosa che col calcio e con lo sport non c'entra nulla. Ora, prima di fare l'elenco delle categorie, voglio però chiudere il ragionamento generale. E dire che noi eravamo uno dei pochi derby, che io ricordo in questi ultimi 30 e passanti che ho vissuto, in questi 37, io sono i miei, quindi sono 34, che seguo il calcio da quando sono piccolo, ovviamente. Io non ricordo di aver sentito mai dire che il derby di Genova era un derby violento, che era un derby pericoloso, che era un derby comunque sia facinoroso o quant'altro. Come invece sentivi dire di altre città, di altre piazze? Ecco, ora siamo riusciti a rivaltare anche questo. Ora siamo riusciti a rivaltare anche questo. Quindi, quindi, la prima sconfitta non è quella delle porte chiuse o delle trasferte vietate. La prima sconfitta è quella di aver rovinato l'immagine del nostro derby, a mio avviso. E qui non ci sono fazioni che hanno meno colpe di altre, ci sono tifosi che non hanno colpe e che hanno subito questa cosa. Come hanno subito le porte chiuse, come hanno subito e subiranno probabilmente le trasferte vietate. Ma sono da una parte e dall'altra. Dicevo prima che ci sono categorie che subiscono forse ancora di più la cosa, con tutto rispetto per tutti, però credo che i disabili, come me, che devono comunque organizzarsi con accompagnatori, famiglie e quant'altro. Quindi tengono, diciamo, in sospeso anche l'organizzazione di vite altrui, tra virgolette, in quelle occasioni. Coloro che arrivano da fuori, sia i tifosi ospiti, nel caso delle porte chiuse, sia coloro che magari sono tifosi della nostra squadra, ma vengono da fuori una volta ogni tanto e riescono a venire a vedere una partita. Anche loro magari si sono organizzati con treni, aeree, macchine e quant'altro, e si ritrovano con niente di fatto. Quando ci sono le porte chiuse, per esempio. O quando magari avrebbero la partita vicino a casa loro, ma non possono andarci perché ci hanno chiuso il settore oltre. L'altra categoria è quella di coloro che magari riescono a prendere un biglietto ogni tanto, uno o due stagioni, magari per impegni personali, per problemi di qualunque tipo, e anche loro, all'ultimo, si sono visti negare questa possibilità. Poi ci sono gli abbonati, ovviamente, perché anche loro comunque perdono una partita nell'abbonamento, e in più rispetto agli altri, quanto hanno anche, anche se consapevolmente, perché nel contratto c'è, hanno, o meglio abbiamo, perché anch'io sono un abbonato, il danno di non poter ricevere risarcimento, ma questo è un danno consapevole per gli abbonati. I biglietti verranno rimborsati, mentre gli abbonamenti no. le partite nell'abbonamento. Quindi, questi atteggiamenti, che hanno avuto queste decine, centinaia di persone, ripeto, non voglio dare definizioni, sono andate a danneggiare tutta la collettività del tifo rosso-blu cerchiato. E questo non è una vittoria di queste persone, è una sconfitta di tutti, lo ripeto, perché dove loro vedono, o possono vedere una vittoria, in realtà, hanno perso anche loro, perché anche loro sono colpiti da questa situazione. E alcuni di loro, probabilmente, saranno colpiti anche peggio. Probabilmente. Quindi, ragazzi miei, tutto questo per dire cosa? Ci ho messo tanto, ma perché ho voluto spiegarmi bene. Per dire che, da noi, come in tutti gli altri stadi, come in tutte le altre situazioni, la violenza non risolve nulla, ma anzi complica e peggiora le cose. La violenza fa sì che tutti escano sconfitti da una certa situazione. E soprattutto, la violenza non risolve nulla. Quindi, cerchiamo di tornare a essere i tifosi che eravamo. Cerchiamo di tornare a essere il derby che eravamo. Cerchiamo di dare un messaggio positivo da poter espandere in giro. Perché i messaggi positivi, le nostre due tifoserie, li sanno dare. Questo non è un messaggio solo ai genovani. Questo video è rivolto a tutti. I messaggi positivi, le nostre tifoserie, li sanno dare. Quindi, non facciamoci mettere sotto scacco da una mentalità negativa, da persone che, magari, per motivi che non riesco neanche a immaginarmi, credono che la violenza sia la soluzione. Ma anzi, cerchiamo di dare anche un buon esempio alle generazioni future, in questo senso. Cioè, in un senso di sotto ci sta, insulti durante i 90 minuti, va bene, ci sta. La rivalità all'interno dello stadio è normale, ci può stare. Ma poi è sport. Dopo quei 90 minuti, l'altra persona è una persona come un'altra, può essere anche il tuo vicino di casa. È un modo di dire, capiamoci. Non roviniamo tutto. Non roviniamoci, soprattutto. Neanche, ovviamente, non roviniamoci fisicamente, moralmente, mettiamoci anche la pittina penale perché si mena, ma soprattutto non roviniamoci una delle poche gioie che ancora abbiamo, che è quella di condividere con amici, parenti, fratelli, conoscenti, quello che volete, la gioia dello stadio e dello sport. Questo è quello che volevo dire. Non è un attacco a nessuno, ma è una semplice riflessione. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete condividete il video, Genoani, Sandoriani, di qualunque tipo di tifoseria, perché il ragionamento parte dal nostro derby, ma va proprio oltre i colori. Un saluto a tutti dal vostro Genoano Tipico. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao.